Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut sono caduto dall'uccello che peccato mi è caduta sull'uccello se vuoi pisella in che senso oddio c'è anche l'angelo naturali o porco di essere arrivato non mi ricordo non mi ricordi tasti no come non si gioca a questo gioco no non mi dire così ti prego mi sono avvelenato perché questi mostri sono sicuramente comunisti hai un serpente nello stivale non mi dici niente hanno suonato un problema non posso aprire chi sarà mai andiamo a vedere che bussa quest'ora del mattino ho fatto il mio primo acquisto su amazon e non è andato a buon fine correggia dalla coda salve a tutti come procede la caccia ci chiede mi due e potrebbe andare meglio ma potrebbe andare anche molto peggio potrebbe piovere abbiamo poi non metterti ecco a me avvelenata bravo gli hai rotto qualcosa non so cosa io gli sto un canso odio il jagras per dei sensi tata 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 ok basta la raffian no porca troia ho preso fuoco ma che cazzo di questi ancora lì l'ho vista anche l'altra volta ma è il betelgeuse il betelgeuse lui è il betelgeuse dai che dobbiamo uccidere il puccia puccia qua puccia 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 l'ho pucciato io per poterti dire gli ho tirato la farfallina e tirato la farfallina mantello della vitalità così a caso che sei batman e l'uomo pipistrello e batman ti mangia anche luce no non era del fish and chips hanno preso un merluzzo tranquillo lo su meno io o mi mela lui nel fratello non ho capito o abbiamo buttato giù signori